Salve. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Samuel Storm. Vengo dalla Nigeria. Ah, e da quanto tempo sei in Italia? Sono qua in Italia da un anno e nove mesi. Sono, ho attraverso il deserto e il mare, farai qua. Accidenti. Quanto è durato questo viaggio che hai fatto? Nove mesi. Deve essere stata durissima. Senti, che cosa vuoi cantarci? Oggi faccio un brano che ho scritto, si chiama The Fire. The Fire è il fuoco che arde dentro il nostro cuore. Cantaci il pezzo, dai. Facci sentire. Speriamo che sia bravo, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.